Il governo si dimetta che Mattarella si svegli dal pisolino, sciolga le camere, lasci votare gli italiani e poi tocca a voi. E poi chi vince, vince. Poi se rivince il PD della Boschia e di Renzi vuol dire che in democrazia chi vince ha ragione. Ragazzi, saluto Maria Lentini da Como, con maschi mi raccomando, e riprendersi la città dopo cinque anni di nulla di sinistra. Saluto Stefania De Rienzo, rischiata di essere picchiata solo per aver suonato a un immigrato che faceva retromarcia. Ormai non c'è più rispetto, non c'è più timore, neanche per le forze dell'ordine, vuoi che rispettino te in macchina. Occorre riportare un po' di sano rispetto per tutti e per chi porta una divisa in particolare. Saluto Gianluca da Padova, disabile dalla nascita, magari a 300 euro al mese, mentre a chi sbarca ne vengono garantiti mille. per la cooperativa che lo fa divertire, lo fa mangiare e dormire.